Abbiamo troppo avanti col pensiero per variabilizzare già loro certi materiali, non riuscivano, cioè non c'è mercato, non c'è mercato, ovviamente eravamo 4 gatti, invece fai per 4 gatti, poi se quando gli organizzatori di tutta l'Italia, specialmente siamo bravissimi a fare, dopo la prima domanda ci fermiamo, è cominciato a muovere tutto il sistema legale, poi ho cominciato a vedere un po' di numeri, si sono cominciati ad organizzarsi gli artigiani, come nel sci, come nell'avigliamento, le piccole aziende, poi le grandi aziende sono tutte dito dopo. Adesso è normale, parlare di leggerezza è normale, quando parlavamo, avevamo la maglia di cotone, poi si era all'intimo la maglia di cotone, si giupa, e poi arriva in salita ancora ancora, poi mi girava e tac, blocchi di ghiaccio, non solo, bisogna avere qualcosa, però l'intimo non c'era l'intimo. cioè, se mi ricordo, dobbiamo vedere da che sporco su un tavolo, peggio di noi, c'era la maglia di cotone. Volevo se sono, uno scrugguto, è una maglia di cotone, noi pensiamo poi già che maglia di cotone non era così, la loro esigenza di allora, in ore non mi servivano, era morirà da cieco, però si parlava un po' così, non si era capito, Grazie.